Nelle puntate precedenti di Peter Lavoro da Cani ti ho detto di starne fuori, invece tu manometti un costume da milioni di dollari per poter sgattaiolare a mia insaputa facendo la sola cosa che ti avevo detto di non fare. Stanno tutti bene. Non grazie a te. Non grazie a me. C'erano delle armi lì e ho cercato di dirglielo, ma lei non mi ha dato ascolto. Non sarebbe successo niente se lei mi avesse ascoltato. Se lei portasse qualcosa sarebbe qui di persona. Ti ho dato ascolto invece. Secondo te chi ha chiamato l'FBI? Lo sai che io ero l'unico che credeva in te e tutti gli altri mi dicevano che ero un pazzo a voler reclutare un quattordicenne. Quindicenne? No, ora ti cucci la bocca! Va bene, adesso parla all'aduto! Se fosse morto qualcuno, tutt'altra storia, no? Sarebbe stata colpa tua. E se fossi morto tu, mi sarei sentito in colpa io. Non voglio avere rimorsi. Sì, signore, io mi scusi, mi scusi. Mi scusi, non servo. Capisco. Volevo essere come lei. E io volevo che tu fossi migliore. Ok, non funziona. Devi restituirmi il costume. Per quanto tempo? Per sempre. No, 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 la prego, la prego, la prego, la prego. Ridammi. Signor Stark non capisce. È tutto quello che ho. Sono niente senza il costume. Se sei niente senza il costume, non dovresti averlo, ok? Bra, parlo come mio padre. Non ho altri vestiti. Va bene, ci penso io. Ciao. È tutto il giorno che ti chiamo e non rispondi al telefono. Ti sembra il modo? Poi ho visto quella cosa del traghetto. Ho chiamato cinque stazioni di polizia. Cinque! Ho chiamato cinque amici tuoi, ho chiamato la madre di Nesma. Sto bene, ma sto bene. Ora calmati, va tutto bene. Bene. Basta con le stronzate. So che sei scappato da scuola. Che hai lasciato la stanza d'albergo a Washington. Che esci di nascosto da casa tutte le notti. Non va bene. Peter, tu devi dirmi che sta succedendo. Dimmi la verità. Siamo solo io e te. Ho perso l'ostaggio alla Stark. Cosa? Sì. Cos'è successo? Pensavo di poter fare un buon lavoro e che lui, lui mi avrebbe... Ma ho fatto un lavoro da cani. Oh, tranquillo, ok. Ok. Mi dispiace che ti sei preoccupato. Guarda che io non voglio rovinarti la vita. Sì, lo so. Insomma, anche io ho fatto delle sciocchezze. Sì. Mi hai fatti una doccia. Puzzi. Puzzi di... Puzzi di spazzatura. Lo so. Pieter...